Weee! Non fare il barbone! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi mi brucia! Mi brucia tutto raga! Mi brucia tutto! Sono in hype per la season 10 in una maniera veramente incredibile! Spero ovviamente che anche voi insieme a me lo siate tra pochi minuti, una mezz'oretta, inizieremo la diretta insieme che ci porterà dalla fine della season 9 alla season 10 e vi farò vedere in anteprima mondiale tutti i leaks, i picconi, le skin, le cose nuove. Insomma ragazzi non vi aspetto altro che in live, non so cosa ho detto. Nel video di oggi ragazzi, che caspita stai cosa! Parleremo ragazzi delle mot ride the pony, ve la ricordate quella gran gran quella che fa così no? Livello 20 del pass battaglia season 2, sembra ragazzi che sia possibile ottenerla di nuovo e qua ve lo vado a spiegare. Ovviamente parleremo in questo video di tutte le cose che sono state scoperte in anteprima nella season 10 della season 10 nel trailer, quello che abbiamo visto ieri pomeriggio insieme che è stato caricato da Epic Games. Ci sono un sacco di cose che magari non avete notato perché sono veramente fotogrammi che ovviamente io ho qua per voi. E poi ragazzi picconi gratis, sì sembrerebbe tramite un leakers che sia possibile ottenere dei picconi gratis in un modo molto interessante e assolutamente non difficile nella season 10. Prima però volevo ringraziare tutti quelli che hanno utilizzato e che utilizzano il mio codice creator Xyuderone. Grazie di cuore ragazzi per sostenere il canale alla grande, mi raccomando iscrivetevi in tantissimi e soprattutto... Attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live. Ma prima? L'avete visto prima dai? Ce l'avete già in mente la domanda? Vi devo fare la domandina, l'ultima domanda della season 9 ragazzi e siccome la season 9 finisce qua e potrebbero arrivare anche delle nuove armi, anzi certamente arriveranno nella season 10. La domanda è qual è la tua arma preferita attualmente? Dai quella che proprio devi avere e dici vinco le partite con quell'arma. Molti lo sapranno di già ragazzi, la mia ovviamente è il Barrett, mi piace veramente tantissimo, io lo prendo anche nel vending machine al posto degli scar, sono veramente un fottuto pazzo criminale. Ma quindi, ciancio le bande! E bando alle ciance, andiamo subito subito a vedere l'ultimo fotogramma proprio del trailer della season numero 10. Siete pronti ragazzi, guardate che meravigli, innanzitutto notiamo subito che siamo nella zona di sprofondo stantio. Ci sono i tre magazzini, quanti ricordi, quanti ricordi season 3, i tre magazzini ragazzi, non sembra esserci il cratere anche perché sappiamo che il tema della stagione numero 10 è stato ufficialmente detto, si chiamerà time travel, quindi viaggi nel tempo. Non è detto che vedremo tutto subito, viaggi nel tempo, vorrebbe magari dire che saranno più di uno durante tutta questa stagione che vi ricordo finirà il primo ottobre se non ricordo male, o il 10 o il primo ottobre, l'avevo letto, credo il primo se devo essere sincero. Andando appunto a vedere ragazzi il trailer abbiamo delle immagini, le migliori che sono riuscito a trovare, queste meglio di così non ci sono, sono immagini davvero interessantissime. In questa ragazzi vediamo ovviamente nella scialuppa di salvataggio la skin del pesce secco nella versione della season 8 pirata che sta trasportando un'altra skin. Prima di zoomarvi sull'altra skin voglio anche dirvi che sembrerebbe che nel trailer siano anche mostrate le città che invece verranno rimosse dalla mappa. E lì alle nostre spalle quella sembra il tempio di tomato, l'ultimo pezzo della vecchia tomato town che poi si trasformò, ve lo ricorderete senz'altro, in un tempio dal nulla. Perché c'era un tempio come si dice e che sembra invece finalmente no, comunque del tutto sparire effettivamente. Oltre a me non penso ci vadano altre persone. Uno zoom invece è fatto proprio sulla skin che non si capisce benissimo. Potrebbe tranquillamente essere un altro stile del pesce secco o semplicemente una skin a sé. Effettivamente non è molto chiara ma nella prossima immagine notiamo invece come ci sia una nuova versione. Probabilmente uno stile dell'avanguardia oscura. La vediamo lì dietro in alto a destra. Ve la voglio zoomare un pochettino meglio ragazzi. Molto bella, sembrano quasi, per chi ha vissuto la season 4, 3, Omega season 4, non me lo ricordo più raga, troppe cose in mente. Vi ricordo è stata l'unica season dove non si poteva ottenere gli stili personalizzati della skin del livello 100 nelle season successive. Sì perché poi dalla season 5 sono state rese disponibili. Quindi i led mi sembrano, mi ricordano un po' quelli di Omega. Andando avanti abbiamo l'ultima skin che si vede che è probabilmente un'altra variante della miseriaccia miseriaccia. La skin quella che gli hanno già messo la variante natalizia con il cappello. Adesso mi sfugge il nome però sembra molto molto somigliante o potrebbe semplicemente essere un'altra skin. Non sono solo skin però quelle che vediamo ragazzi nel trailer ci sono anche altre city. E questa è interessantissima perché potrebbe essere rimossa dopo la bellezza di sette stagioni a Prodo Avventurato. Lucky Landing portato in game nella season 3 per omaggiare il capodanno cinese. E' rimasto per ben sette stagioni senza assolutamente essere mutato se non con il, come si dice, il coso del Bao Bros. Noi presente. Però secondo me potrebbe anche essere il tempio che c'è all'esterno e quindi potrebbe essere semplicemente rimosso quel tempio. Che sarebbe un altro tempio vicino a Tempio Tometo. C'è Tempio Tometo e poi c'è quello. Tanta roba. Un'immagine anche purtroppo non c'è niente di meglio per quanto riguarda un possibile nuovo deltaplano. Non saprei dirvi altro. Sembra che ci siano due cose viola con un bottone. Non saprei dirvi ragazzi perché ho pensato all'inizio fosse la postazione da DJ, del DJ Yonder nelle mott. Vai coi bassi. Però sinceramente mi sembra più un deltaplano. E andando avanti invece, curiosità, si vede nel fotogramma una skin che in realtà abbiamo già visto nel secondo teaser. Ve la ricordate sicuramente ragazzi. Parliamo ovviamente del robot che è stato pubblicato ormai due giorni fa, tre giorni fa, dove veniva anche detto guarda al futuro. Qua si vede di nuovo potrebbe essere una delle skin del pass battaglia. Sai che magari le fanno vedere così e probabilmente te la danno subito se acquisti il pass. Non lo so però ci assomiglia. Veramente tantissimo. E in chiusura ragazzi. L'ultima parte del trailer dove c'è proprio Jonesy che sta per cadere. Vediamo subito dietro di lui un piccone che non conosciamo. Quindi molto probabilmente un piccone nuovo. E la curiosità ce l'avete proprio sopra la mia testa. Dove dovrebbe esserci il teschio del mostro. Vedete che ci sono delle cose rosa. Che cosa sono? Qualcosa che è fuoriuscito da sponde del saccheggio? Non lo so. Notiamo che la lava c'è ancora. Ma là in alto ci sono appunto... C'è un liquido rosa che non saprei assolutamente dirvi che cos'è. Siamo già quasi arrivati alla fine del video. Quindi ragazzi parliamo allora solo dell'emote Ride the Pony. Poi vi guardate su Instagram la cosa dei picconi che l'ho pubblicata. Per chi non se lo ricorda siamo nella season 2. Il pass battaglia livello 20 gratuito. Dava l'emote appunto Ride the Pony. Anche forte del fatto del Gamnam Style. Ovviamente stiamo un pochettino ad omaggiare Psy quello che ha fatto il video. Sembrerebbe anzi è quasi certo perché il leakers è affidabilissimo. Che dice Battle Royale News sei un proprietario dell'emote Ride the Pony. Mi dispiace ma per tutti i giocatori che hanno Save the World. otterranno questa emote gratuita nella season 10. Ma se tu hai acquistato... Cioè se tu hai acquistato... Se tu hai ottenuto l'emote nella season 2. Otterrai una nuova emote che si chiamerà Pony Up. E tra l'altro l'emote Ride the Pony diventerà in modalità attraversamento. Insomma ragazzi il leak è veramente... Mi prude, mi prude, mi prude. È veramente alto. Vi aspetto tutti i live alle 8. Oggi puntiamo a fare record di spettatori. Noi ci vediamo fra poco. Ciao!